La tematica delle infiltrazioni mafiose sul territorio al centro di un'apposita giornata organizzata a Pisa dalla Prefettura prenderà il via questo mercoledì 14 novembre dalla Scuola Superiore Sant'Anna. Prefetto Tagliente, come vengono percepite queste tematiche, queste problematiche sul territorio locale? C'è una grande attenzione, un grande impegno da parte della Prefettura, della Magistratura, delle Forze di Polizia, della Camera del Commercio e di tutti gli operatori dei settori interessati all'utilizzo degli strumenti giuridici. Vogliamo dimostrare alla comunità locale la sinergia tra tutti gli attori per scoraggiare ogni possibile appetito sul territorio pisano. Come ci si difende? Ci si difende mettendo insieme tutti i saperi e tutte le conoscenze e utilizzando tutti gli strumenti che l'ordinamento ci offre. Ma è necessario conoscerlo questo ordinamento e questo mercoledì alla Scuola Superiore Sant'Anna i massimi esperti del settore si incontreranno per questo incontro dibattito con tutti gli addetti ai lavori e non solo per illustrare l'interpretazione di queste disposizioni normative. A seguire la firma di questo protocollo antimafia tra Prefettura, Comune di Pisa, Provincia e tutti gli altri 38 sindaci dei comuni pisani insieme con la Camera del Commercio questa sinergia istituzionale, questo coinvolgimento di tutti deve rassicurare i cittadini pisani qualora dovesse verificarsi una situazione di disagio per un possibile infiltrazione della criminalità organizzata le istituzioni sono pronte, reattive e in grado di dare le risposte che ci aspettano. Le varie tappe della giornata saranno seguite dalla nostra emittente con una apposita diretta.